Dillo al vet, parte 1. Buongiorno a tutti, sono Marco Vinci, medico veterinario, e oggi sono qui per parlare con voi di lesmaniosi. Mi raccomando, seguiteci, mettete un bel mi piace e se volete commentate qui sotto. Oggi parliamo brevemente di lesmaniosi. Le cose importanti che voglio trasmettervi oggi sono fondamentalmente due. La prima, l'attività repellente, quindi ricordatevi che il vostro animale nella stagione a rischio che va all'incirca da maggio fino a ottobre, stagione in cui vola il temuto flebotomo, che è il vettore di questa malattia, deve avere il vostro animale un prodotto repellente. Seconda arma che abbiamo a disposizione è la vaccinazione, esiste già da qualche anno, è un'ulteriore protezione per il vostro animale, non sostituisce però la repellenza di cui abbiamo parlato poco fa. Se vi fa piacere e vi è piaciuto questo video, commentate nei commenti, saremo felici di rispondervi.